Parliamo ora di due elementi fondamentali del pensiero di Naomi Klein che è una giornalista e attivista canadese. La prima è quella che viene contenuta nel best seller internazionale che l'ha resa nota al grande pubblico intitolato No Logo che viene pubblicato nel 2000 e che ha una forte verve antiglobalista. Infatti ritiene che vi sia una affermazione di mutamento radicale del capitalismo negli ultimi vent'anni, cioè dagli anni Ottanta al 2000 e che ha reso sempre più centrale alcuni valori immateriali come quelli collegati al branding, al logo, al marchio. E dall'altro lato ha eliminato la centralità della merce in quanto tale in favore appunto di questa immaterialità e idealità del branding. Questo aveva lo scopo e la funzione di creare un monopolio da parte delle grandi multinazionali che si erano affermate fino ad allora. E quindi sono state investite grandi risorse economiche che hanno favorito proprio queste strategie di rebranding, di brandizzazione e di risparmio sulla produzione al contempo. Quindi non più la merce ma il logo, ma l'immagine, ma l'entità ideale. E quindi ecco che il dislocamento verso i paesi del terzo mondo dove si potevano sfruttare gli operai pagandoli ad un prezzo di manodopera estremamente basso al limite dello sfruttamento, se non allo sfruttamento vero e proprio in determinati casi, in favore appunto della creazione di merci di scarsa qualità ma dal marchio importante. E in questa realtà che analizza sono interessate grandi imprese come la Nike, Adidas, Disney, Rebook e quindi naturalmente è un processo che interessa tutti, anche i McDonald's che sono sicuramente elementi rappresentativi del movimento della globalizzazione. Ecco, questo interesse per il marchio è un interesse che si può coniugare allo stesso tempo con un'altra sua nozione che invece viene espressa nel testo anch'esso rivolto ad un pubblico interessato a questioni di carattere economico-politico e che si intitola Shock Economy, The Shock Doctrine. Ecco, l'economia dello shock che viene teorizzata in questo testo, The Shock Doctrine, è quella appunto della Shock Economy e così viene tradotto infatti il testo in italiano, Shock Economy. Ora, non è chiaro perché in Italia vogliono fare sempre questi mutamenti di significato del testo, del titolo, e non lasciano il titolo originale, ma il concetto è forse ben reso dall'espressione economia dello shock. Questo significa che negli ultimi anni, e qui appunto scrive nel 2007, si sono viste una serie di politiche incentrate sulla privatizzazione, sul taglio alla spesa pubblica e sulla liberalizzazione dei salari, quindi che vanno tutte a favore del privato e vanno a eliminare qualsiasi potenzialità, qualsiasi capacità di intervento al pubblico, secondo una logica prettamente neoliberista, post-1989 potremmo dire, cioè un modello economico tatcheriano, un modello economico che non fa più appello a quella forma mista di capitalismo che aveva al centro anche qualche forma di welfare state, ma un modello economico incentrato esclusivamente sulla privatizzazione e sulla eliminazione di qualsiasi bene comune, di qualsiasi forma di condivisione, di intervento pubblico anche per garantire alcuni livelli minimi di in qualche modo servizi come sono in certi paesi ancora presenti, seppure sempre più drasticamente tagliati come appunto l'istruzione pubblica, la sanità pubblica e via dicendo. Quindi invece questi tagli, queste privatizzazioni, vanno in una direzione opposta, ma lo fanno in un modo particolarmente interessante, ed è qui che vi è l'elemento dello shock. Cioè si prende un evento contingente, particolare, spesso provocato ad hoc proprio con questo scopo, e lo si utilizza per applicare queste politiche estreme, di estrema liberalizzazione del mercato, senza che vi sia però al contempo un consenso da parte del popolo. E qui è l'elemento antidemocratico, laddove appunto la sfera economica si impone sulla sfera politica, l'economicizzazione del politico. Questo è un processo che stiamo vedendo da anni e che è fondamentale proprio perché significa l'eclissi di qualsiasi politica. Il momento in cui la politica abdica a se stessa, in funzione completamente della sfera economica, ecco che vi è un ribaltamento dello status quo e l'economico diventa il paradigma anche per affrontare qualsiasi dinamica politica. Quindi questi eventi scioccanti, contingenti, particolari, creati ad hoc, fungono da giustificazione creata d'arte per intrattenere questo genere di politiche. E quindi tra questi sciocc possiamo trovarne infiniti, cioè a partire dalle torture che venivano attuate da parte di Pinochet in Cile nel 73, dal muro di Berlino alla situazione inflazionistica della Bolivia, alla guerra delle Folkland che si dava tra Argentina e Regno Unito, nella guerra in Iraq, nella distruzione di New Orleans e in tempi più recenti dell'uragano Katrina che è avvenuto appunto nel 2005. E quindi abbiamo una serie di politiche di questo tipo che vanno tutte a favore dell'economico. E' una formula che ritroviamo appunto nel Margaret Thatcher che ben incarna questa prospettiva di there is no alternative, di neoliberalizzazione del mondo potremmo dire in qualche modo con una formula semplicistica ma che ben indica la direzione che è una direzione che sembra essere inarrestabili. E se pensiamo che questo testo è stato scritto nel 2007 basti pensare poi a tutto ciò che è successo dopo anche in Italia, anche in Europa, non solo nel mondo, nella sua totalità. E lo vediamo appunto per esempio con la crisi del 2008, un anno dopo la pubblicazione di questo saggio che ha costituito un ulteriore evento che ha favorito una politica di austerità sempre maggiore, l'Italia alla spesa pubblica, la sanità pubblica e la scuola in Italia su tutti. Ma anche successivamente la crisi migratoria. Ecco, la crisi diventa occasione anche quando parliamo di flussi migratori. E infine la crisi dovuta alla gestione della pandemia da SARS-CoV-2, avvenuta alla conclusione del 2019 e che poi ha protratto i suoi effetti nel 2020 e ancora nel 2021. E che ci lascia in una incapacità di pensare al futuro anche queste continue emergenze che emergono. Le emergenze in qualche modo sono sempre chiamate in causa, talvolta create ad hoc, talvolta costruite sulla base di una realtà. Naturalmente l'uragano Catrina c'è stata, l'inflazione in Bolivia c'è stata, il Covid-19 c'è stato, ma viene strumentalizzato un evento relativamente significativo affinché possono essere attuate delle politiche di neoliberalizzazione sulla base di quelle che sono le teorie di Milton Friedman e della sua scuola di Chicago che ha fondato proprio a partire dalle sue grandi riflessioni, per quanto condivisibili o meno, è un pensatore sicuramente importante. Quindi queste politiche liberali e liberiste soprattutto hanno condotto nella loro attuazione a partire dagli anni 70 e ancora più negli anni 80, alla condizione attuale che è basata sul paradigma della shock economy. Quindi abbiamo visto essere centrali in Naomi Klein due grandi temi, oltre che altri che non abbiamo qui tempo di nucleare, ma appunto il tema primario del movimento no logo, cioè dell'oppursi al movimento globalista, mondialista, anche attraverso quella che può essere chiamata una brandizzazione dell'economia e quindi una messa in primo piano della rappresentazione ideale dell'immagine sulla merce, quindi la merce che si trasforma in immagine, in immaginario, la merce che si depriva della sua centralità, della sua importanza, dell'interesse relativo alla sua qualità e che viene sostituita, la merce tutta, da una sua pura immagine. E qui Baudrillard sarebbe forse d'accordo in questo processo di assoluta affermazione dell'immaginario sul reale, a deprimento del reale stesso. Abbiamo quindi un impoverimento assoluto della merce in quanto oggetto sensibile, in qualche modo è un'affermazione assoluta dei simulacri, per dirla con la grammatica e con il lessico proprio di Baudrillard, che in qualche modo aveva anticipato queste grandi riflessioni di Naomi Klein. E in questo senso, se da un lato abbiamo questa metamorfosi del capitalismo finanziario contemporaneo, che mette al centro il branding, il marchio, l'immagine, dall'altro abbiamo invece il secondo punto che abbiamo trattato, quello dell'economia dello shock, che sono due modalità con cui noi facilmente possiamo interpretare la nostra realtà contemporanea. A partire da queste suggestioni, da queste riflessioni ben documentate e profonde di Naomi Klein, noi possiamo cercare di cogliere la nostra contemporaneità nella maniera più interessante e radicale forse possibile, ma profonda allo stesso tempo, senza che si pensi per slogan come talvolta alcune forme che si oppongono al capitalismo fanno, ma che si pensi a partire da una consapevolezza reale della problematica dell'economia politica contemporanea.